Diffamò l'allora presidente del COUB Roberto Gentina, condannato a sei mesi, pena sospesa, il consigliere comunale della Lega, Michael Immovilli. La sentenza del giudice Annalisa Palomba ha confermato la richiesta dell'APM, Anna Maria Rossi. Immovilli dovrà anche risarcire con 5.000 euro di provisionale ciascuna le parti civili, Gentina con l'avvocato Angelica Chiurillo e il COUB con l'avvocato Giovanni Garippa. Oggetto del processo un post di Facebook del marzo del 2017 nel quale Immovilli criticava l'operato del COUB e di Conservicio utilizzando termini che rimandavano alla mafia. Ho svolto il mio ruolo di critica politica in quanto consigliere comunale, non ho dato del mafioso a nessuno il termine e ormai sdoganato si è sempre difeso Immovilli. Argomentazioni che evidentemente non hanno convinto il giudice sono tra i procedimenti penali con l'accusa di diffamazione aggravata da parte di Immovilli nei confronti di Gentina. Il primo si è concluso con l'assoluzione dell'imputato, il terzo riprenderà a settembre.